Ciao, sono Daniele, vengo da Roma e sono arrivato qui a Filadelfia perché sbarcata a New York e ho deciso di venire a vedere dove realmente è nata l'indipendenza degli Stati Uniti, da dove si è mossa la mano contro l'Inghilterra per poter poi un giorno arrivare qui ad essere americani nel paese della dichiarazione di indipendenza con la campana, con la storia della bandiera cucita, con le stelle, era interessante vedere questo, senza questo non si può venire in America, senza l'idea questo.